Il nuovo record breaker in Italia 200 fly Matteo Rivolta per Smooth World Ciao Matteo Rivolta, grazie da me, da Macciulli e sono molto felice per la mia firsta record italiana su questa raccoglia Matteo avevi uno spettatore molto particolare che stava buffando su questa gara di Colombeni che stava lì a contarsi i centesimi di seconda Eh ma adesso vado su incontrarlo e... Adesso lo abbiamo sempre incontrato E regoliamo i conti In una verità ci aspettavamo un po' di carini, ma sei arrivato il secondo? Ma no, allora, sinceramente non sapevo neanche cosa aspettare ho avuto un cuore un tempo al di sopra delle mie aspettative in questo momento Allora come qui, come dicevo prima, abbiamo iniziato a lavorarci però preparando un raccoglio del mondo di quest'istante Stata a metà gara e... 1.53 è un buon pimpio, ma... Mi spiace per girare comunque... La mia gara è in cento e finalizzata gli europei, infatti... Questa è una, diciamo, un'ultima verifica Stata a metà gara e anche... ...l'Unti di cinquanta punti... ...vedi diciamo a noi che stavamo ad star a essere possibile...